Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione e l'apertura del notiziario. Oggi è dedicata alla presentazione di due nuovi ufficiali che presteranno servizio al reparto territoriale dei carabinieri di Gela. Sono giovani ma con importanti esperienze alle spalle. Arrivano rispettivamente da Livorno e da Roma e guideranno la sezione radiomobile e quella operativa. Sentiamo. Il reparto territoriale dei carabinieri di Gela si arricchisce di due nuovi ufficiali. Si tratta del tenente Michele Cerri, 27 anni, nativo di Livorno, e del tenente Matteo Calcagnile, 25 anni, di Roma. Il primo comanderà la sezione radiomobile, prendendo il posto dal tenente Francesco Ferrante, promosso al comando del nucleo operativo e radiomobile. Calcagnile dirigerà la sezione operativa. Cerri è stato impegnato negli ultimi anni in diverse manifestazioni, dall'Expo alla Val di Susa. Calcagnile invece ha prestato lo suo impegno al tredicesimo reggimento Friuli-Venezia-Giulia. Per i due ufficiali si tratta della prima esperienza in un reparto territoriale. La realtà gelese offre sicuramente margini per migliorare come uomo e come ufficiale carabinieri. Lei arriva da Livorno, dove esiste uno stabilimento Eni, altrettanto trova Gela. Questa dell'Eni sicuramente è un banco di prova per noi come reparto, perché dobbiamo mantenere con cui si avvicinanza alla popolazione, ma allo stesso tempo garantire la sicurezza all'impianto stesso dell'Eni. Quando ha saputo che sarebbe arrivato in città, qual è stato il suo primo pensiero? Il mio primo pensiero è stato subito quello di sapere già di dovermi confrontare con delle attività con cui finora non mi ero mai cimentato praticamente, ma solo teoricamente durante il nostro corso di studio. Sapevo che avrei da subito dovuto mettere molto impegno per entrare subito nel territorio, in tutte le dinamiche che ci sono a Gela, quindi conosci subito i personaggi principali, quindi quelli su cui puoi poter lavorare. L'esigenza che in questo momento sta imperversando nel territorio riguarda più che altro attività di estorsioni e spazio di sostanze stupefacenti. A fare gli onori di casa questa mattina la presentazione dei due nuovi ufficiali, il Maggiore Valerio Marra. Due nuovi ufficiali giunti, fortemente preparati e motivati, che sono stati destinati qui a Gela dal nostro Comandante Generale. A testimonianza dell'attenzione che il vertice dell'arma riserve in una città così importante come questa. Speriamo che con la loro motivazione e con la loro preparazione, frutto di cinque anni di percorso formativo tra la scuola ufficiale i carabinieri e naturalmente il periodo trascorso in Accademia Militare a Modena, possano naturalmente dare la giusta preparazione, ma soprattutto la giusta guida, il giusto stimolo ai nostri carabinieri impegnati sia nell'attività di controllo del territorio e che nell'attività investigativa. Il tenente Francesco Ferrante, neocomandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha preso il posto dal Capitano Gianmarco Messina, trasferito a Catania. Dopo 20 mesi di comando della sezione radiomobile del reparto territoriale, quindi della liquota dedicata al pronto intervento, ho assunto da qualche giorno il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile, quindi la responsabilità di entrambe le articolazioni del reparto, l'una che si occupa del pronto intervento e l'altra che si occupa più specificamente della polizia giudiziaria. Accusava il titolare di un negozio di elettronica di avergli venduto un televisore difettoso e per vendicarsi era tornato nel centro armato di una piccola accetta e un seghetto. L'episodio si è verificato a Niscemi a bloccare il cliente in preda all'Ira. Sono stati poliziotti aiutati dagli uomini del reparto Prevenzione e Crimine di Palermo. Il fermato minacciava il titolare e i clienti presenti in quel momento all'interno del negozio brandendo l'arma. Gli agenti lo hanno bloccato e disarmato. Dopo averlo identificato è stato segnalato a piede libero. E Oscar Aiello è il consigliere comunale di Forza Italia e il coordinatore cittadino del partito di Berlusconi a Caltanissetta. La conferma è arrivata nel corso del congresso comunale del partito tenutosi in un noto tal cittadino a cui hanno partecipato non solo dirigenti provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia ma anche molti simpatizzanti provenienti da vari paesi della provincia. Grande entusiasme inoltre per la presenza al congresso sia di Gianfranco Micichè, neocordinatore del partito in Sicilia sia del senatore Vincenzo Gibino che dopo la nomina di Micichè andrà a svolgere degli incarichi a livello nazionale che insieme hanno lanciato dal palco un appello agli elettori forzisti ma più in generale ai moderati a condividere ideali e programmi del partito affinché Forza Italia torni ad essere il vero punto di riferimento di tutto il centrodestra. Confermato infine Michele Mancuso come coordinatore provinciale, conferme anche per Giuseppe Virone e Donato Giaffreda che avranno il compito di coordinare Niscemi e Sommatini. Oggi è un giorno importante non solo per Forza Italia ma per l'intero centrodestra in quanto oggi qui getteremo le fondamenta per poi di nuovo ricostruire Caltanissetta e poter mettere su una coalizione che sia poi alternativa all'attuale amministrazione centrosinistra. L'impressione è che qui a Caltanissetta il partito ci sia già, contrariamente in altre province ma dovremo crescere, dovremo crescere tanto, ci sarà un gran lavoro da fare ma lo faremo, siamo entusiasti di farlo. Parliamo a livello regionale, lei è il nuovo coordinatore, come si muoverà il partito? Il partito si muoverà come si è mosso, nel senso che bisogna recuperare la gente, bisogna aumentare il consenso, bisogna lavorare molto. Oggi Caltanissetta e i suoi comuni della provincia hanno il coordinatore eletto dal suo popolo in maniera legittima. E' ovvio che nell'agenda della politica di oggi la cosa più importante è quella di mandare a casa Crocetta. Miciche è stato il primo coordinatore regionale in Sicilia, ritorna a Gianfranco. Io lavorerò a fianco del Cavaliere Berlusconi da mercoledì al tavolo della presidenza con i coordinatori regionali di Siciliani, ce ne saranno due, io con un ruolo che poi sarà ufficializzato a breve, è quello di Gianfranco. Quindi due Siciliani in Italia fanno più che bene. La dignità del Reo e il suo inserimento. Il titolo del convegno che si svolgerà a Gela venerdì 27 novembre dalle 15.30 presso il Palazzo di Giustizia e sabato 28 novembre dalle 9.30 presso l'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo. Gli incontri sono stati organizzati dal Lions Club di Gela presieduto dall'Avvocato Antonio Gagliano. In collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela saranno spunti di riflessione sul volume dell'Avvocato Giovanni Maria Flick Elogio della Dignità. Tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate, i cui lavori saranno presieduti venerdì dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, sabato da Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana. Venerdì gli ospiti saranno introdotti dal Presidente del Tribunale di Gela Paola Andrea Fiore, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Ignazio Emmole e dallo stesso Presidente del Lions Club Antonio Gagliano. Interverranno il Docente di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo Lillo Fiorello, l'Avvocato Giacomo Ventura, Presidente della Camera Penale di Gela, il Procuratore Lucia Lotti, il Docente di Diritto Costituzionale Angela Musumeci, l'autore, Avvocato Giovanni Maria Flick. Sabato, dopo i saluti del Sindaco Domenico Messinese e del coordinatore del Lions Club Francesco Freni Terranova, relazioneranno il Direttore della Casa Circondariale di Gela, Gabriella Di Franco, l'Avvocato Salvatore Psaela, il Dirigente Scolastico, Gioacchino Pellitteri. Adesso parliamo del Tour de Castelli che è approdato sabato a Gela. C'eravamo anche noi. E' approdato anche a Gela sabato scorso il Tour de Castelli, progetto ideato dal Lions Club di Caltanissetta, che prevede un corso di fotografia digitale nel più ampio tema eredità culturali, paesaggi, identità e visioni territoriali alla riscoperta del territorio e dei suoi castelli. Focus dei 50 corsisti turisti sul Castelluccio e sui Granai Ducali di Gela. Ad accogliere la numerosa comitiva, l'amministrazione comunale con il Sindaco Domenico Messinese e gli assessori Francesco Salinito e Fabrizio Morello, la Proloco di Gela e gli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. Il presidente del Lions di Caltanissetta, Fabiola Safonte. È un progetto molto ambizioso che il nostro club sta portando avanti in occasione del ventennale della nostra fondazione. Il club Caltanissetta dei Castelli, quest'anno il direttivo e tutta l'assemblea dei soci, ha deciso di focalizzare l'attenzione sulla valorizzazione del territorio dei castelli, del territorio nisseno. Sono coinvolti 13 castelli, il castello anche di Pietra Persia, nonostante sia territorialmente e geograficamente altra provincia. Il progetto è sotto legida dell'assessorato ai beni culturali dell'identità siciliana, in collaborazione con l'Istituto di Rocco, un istituto alberghiero di Castanissetta. La sovraintendenza di Castanissetta è il patrocinio della società dei territorialisti per il contributo e per la parte scientifica. Gli obiettivi del progetto sono diversi, sono molteplici. Verrà realizzata un volume con un percorso turistico dei castelli presentato all'interno di un convegno che avrà dei relatori internazionali. Egella rientra in un ulteriore itinerario turistico, l'itinerario dei castelli. Interessante? Sì, è interessante. Mi piace, intanto, auguri e complimenti per il lavoro. Per quanto riguarda la nostra realtà, sottolino il fatto che la collaborazione con la Proloco sta producendo dei risultati importanti e con la collaborazione dell'Istituto alberghiero dove i ragazzi veramente sono encomiabili e bravissimi nel svolgere il loro lavoro. Io adesso siamo passati dal museo e ho visto con piacere che ci sono dei pullman che stanno visitando la nostra città e significa che siamo sulla buona strada. Alla fine di ogni escursione mi inviano delle immagini e ho visto che sicuramente abbiamo già un buon numero e con altissima qualità delle immagini prodotte. Con questo progetto abbiamo avuto modo di conoscere tutti i castelli del territorio nisseno e anche la loro storia. È molto importante per noi perché queste occasioni sono rare. La Croce Rossa Italiana di Gela organizza un corso abilitante all'utilizzo del defibrillatore operatore BLSD in Italia. L'arresto cardiaco improvviso è un evento che colpisce ogni anno una persona, ogni 1000 abitanti, un'incidenza di 60.000 casi ogni anno. Dati clinici dimostrano che se soccorse prontamente e in modo adeguato queste persone hanno buona possibilità di ripresa. La Croce Rossa Italiana in linea ai suoi principi è da sempre impegnata nella divulgazione di manovre di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione cardiaca precoce. Sul piede di guerra i lavoratori forestali, da oggi sospesi, che si sono ritrovati in sit-in dinanzi alla sede dell'azienda Foreste De Magnali incontrata a Gibilabib per esprimere la loro rabbia e protestare per l'interruzione dell'attività di addetti antincendi a causa dell'esaurimento dei fondi finora disponibili su progetti gravanti su risorse del bilancio regionale e alla ancora non approvazione del finanziamento di altri progetti che vedono impegnati i 151isti, i centunisti e i 78isti circa 1.700 in tutta la provincia di Caltanissetta. Una decisione, quella della sospensione dal servizio a tempo non definito presa dall'ispettorato ripartimentale delle foreste è giunto come un fulmine a ciel sereno per i tanti lavoratori che hanno appreso la notizia solo sabato. Avvisare il sabato vuol dire che è già successo questa mattina alcune operai sono andate al candiere perché non tutti hanno la possibilità o la voglia di avere un telefonino un sms, un whatsapp a disposizione e quindi la vigliaccheria di certe persone la paghiamo noi perché? Perché i 78isti che dovevano finire il 31 dicembre per avere i requisiti ridotti della disoccupazione non completando le 78 giornate perdono almeno 700-800 euro oltre le giornate, oltre dei diritti requisiti sociali ai fini contributivi. Quindi queste persone sono le prime a perdere tantissimi soldi e diritti sociali anche perché già è idea da parte dell'azienda che quando piove ce ne dobbiamo andare a casa a questo punto noi non ce ne andiamo a casa manco se cadono gli alberi addosso a noi perché noi dobbiamo completare le giornate. Qual è l'intenzione del governo regionale sui lavoratori forestali? È facile attribuire sempre alla volontà che siamo tanti ma non è così perché abbiamo dimostrato con numeri e le soluzioni opportune per dare la possibilità di essere stabilizzati e dare corso a un territorio che sta cadendo a pezzi perché non utilizzare i lavoratori forestali tutto l'anno? Quali sono gli interessi che impediscono questa semplice soluzione? Io credo che non sia normale fare lavorare i lavoratori 4 mesi, 6 mesi e poi stare a casa e vedere il nostro territorio che cade a pezzi e lo stiamo vedendo ogni giorno che passa. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Gilberto Gerli comandante della sezione operativa della Guardia di Finanza di Gela le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica successiva alle 18 ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale mostra ornitologica dal 25 al 29 novembre a Gela l'associazione ornitologica gelese si organizza una mostra presso la palestra del quinto circolo didattico Don Milani di Via Venezia a margine della tredicesima mostra ornitologica il 28 e il 29 novembre si terranno il terzo concorso di disegno per gli alunni delle scuole elementari la prima mostra di pittura curata da Dino Lancianese e la terza mostra fotografica curata da Max Bella Stilato è il programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo si comincia sabato 28 novembre alle 16 e 30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città alle 18 l'eucarestia preseduta da Don Raimondo Giammusso nel 25esimo anno di sacerdozio e alle 20 e 30 veglia di avvento e solenne lucernaio animata dal movimento giovanile San Francesco Il grano duro dei campi geloi e il pane di gela è il tema dell'incontro promosso dall'Associazione Culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo in collaborazione con il Comune che si terrà giovedì 26 novembre alle 17 e 30 nella Pinacoteca del Palazzo di Città prevista la partecipazione tra gli altri di Pippo Leonardi, primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Vittorio Emanuele e di Paolo Guarnaccia del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania Si terrà sabato 5 dicembre alle 11 nei locali del Cinema Hollywood a Gela il convegno con video e foto del pilota gelese Giuseppe Alabiso dal titolo Un volo dove non si vola l'Egitto modererà i lavori il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri relatori saranno Giacomo Giandinoto ispettore Enac e Giovanni Taglieri tecnico aviazione generale prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 arriva il grande jazz a Gela appuntamento al Teatro Comunale Eschilo venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933-911-892 oppure 345-5880-580 e adesso occupiamoci di sport c'è il calcio domenica trionfale per Gela e Macchitelle entrambe fuori casa infatti hanno conquistato la vittoria sentiamo domenica favorevole per il Gela la squadra bianca-azzurra torna la vittoria lo fa nel derby con l'altletico Campofranco 1-0 il risultato finale grazie al gol realizzato al 45esimo del primo tempo dall'attaccante Mincica una vittoria sudata per questo ancora più bella il successo mancava da troppo tempo nel campionato ed averlo ottenuto nel derby fa ancora più effetto certo l'importante era portare i tre punti a casa l'abbiamo fatto secondo me giocando anche un buon calcio per 90 minuti durante i minuti di recupero abbiamo un po' soffetto ma credo che nell'arco della partita ci possa stare e che l'avversario possa fare qualche azione per cercare di pareggiare in classifica adesso il Gela si trova al terzo posto con 20 punti all'attivo a due sole lunghezze dal secondo occupato dalla San Cataldese e a meno tre dalla capolista Dattilo Noir e domenica si ritorna al Presti i bianca-azzurri affronteranno la Profavara ultima in gradatoria ieri la Profavara ha battuto il Mazzara una delle squadre più accreditate per la vittoria finale credo che non dobbiamo sottovalutare l'avversario può essere che si sia rimbossata non so perché fare un risultato del genere non è cosa da poco noi dobbiamo cercare di essere concentrati tutta la partita e cercare di portare a casa questi tre punti nel campionato di promozione funziona è come la cura del nuovo tecnico Mirko Vauciana al Macchitella i bianco-rossi hanno conquistato il secondo successo di fila battendo a domicilio il Marina di Ragusa 3-1 il risultato finale grazie ai gol realizzati da Caruso autore di una doppietta e da Tuve i giovesi si sono allontanati dalla zona calda della classifica sabato prossimo al Presti scontro con la New Team squadra che ha gli stessi punti 10 del team preseduto da Francesco Greco ieri ha riposato la Tredigo Gela prossima sfida per i ragazzi allenati da Peppe Misiti a Ragusa siamo all'informazione cinematografica ricomincio da Trail film in programmazione oggi e domani al Cineteatro antidoto di Macchitella a Gela sono due gli orari di rotazione della pellicola 18.30 e 21.30 continua al Teatro Comunale Eschilo invece la stagione teatrale sabato 28 novembre alle 17.15 alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936 il botteghine aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione a tutti voi un buon inizio settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.